E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche quest'oggi andiamo insieme a fare l'analisi tecnica dei mercati finanziari soprattutto dei mercati direi delle criptovalute andremo a capire quello che sta accadendo a Bitcoin e quello che sta accadendo alle shitcoin ok perché stanno un po' prendendo il sopravvento e quindi dobbiamo capire un attimino come si sta andando a delineare la situazione prima di partire però vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace sotto questi contenuti mi state aiutando davvero tanto a crescere siamo quasi arrivati a 9000 iscritti che è un risultato pazzesco considerato che il canale è aperto da 4 mesi neanche 4 mesi sì quindi comunque è un risultato ottimo incredibile quindi vi ringrazio sempre se siete nuovi ricordatevi di lasciare un bel mi piace e iscrivervi perché perché i contenuti che faccio sono prettamente time sensitive quindi se c'è bisogno di arrivare a voi lo si fa come ieri sera quindi è molto importante secondo me in questo settore essere tempestivi e appunto è l'unico modo che ho per arrivare a voi velocemente basta chiacchiere e partiamo prima di andare sui grafici voglio farvi vedere innanzitutto che se non mi seguite seguitemi anche su Twitter io ieri l'ho fatto un po' per scherzo cioè mi sto divertendo un po' a fare un po' a trollare un po' quindi non è assolutamente un consiglio finanziario appunto lo voglio dire anche in video perché? perché il fatto che AS fosse un token legato a un altro cane ok? a uno Shepard se non sbaglio ho detto vuoi vedere che succede la stessa cosa su ABSC questa mattina registrava il 530% e poi è andato addirittura a fare più del 1000% poi un po' di correzione però assolutamente questo si riconduce a un tweet che ha fatto anche CZ otto ore fa che appunto ha specificato come sembra che le persone non abbiano interesse a capire poi effettivamente qual è lo use case ok? di una crypto e questo probabilmente perché siamo in un bull market ok? not financial advice non mi trova più che d'accordo nel senso che nel momento in cui andiamo a perdere quello che è il focus su quello che sono poi effettivamente i progetti quello che può essere l'uso finale del progetto quello che può offrire in più all'ecosistema crypto siamo in un bull market quindi siamo in un momento di euforia nei momenti di euforia la parte più importante è quella di andare a gestire le vostre posizioni senza rincorrere treni persi questo perché? perché se volete buttare 100 dollari siete liberi di farlo ok? 100 dollari non cambiano la vita penso a nessuno li buttate vada come vada e basta però non deve essere un continuo butto 100 dollari qua 100 dollari di là 100 dollari di là e poi alla fine se fate la somma avete buttato il 50% del vostro wallet in shitcoin perché? perché appena questo trend si ferma ok? quando si ferma la giostra ok? è un po' come il gioco della delle sedie no? finché la musica va tutti ballano poi quando la musica si ferma bisogna sedersi sulla sedia se si rimane in piedi si perde tutto ok? quindi attenzione perché le giostra e la musica non la decidete voi la decidono altre entità quindi diciamo che decidono loro quando la musica si ferma e se voi siete su un portafoglio bilanciato gestite il vostro rischio se non lo siete andate in panico completo e non sapete più che fare detto ciò vediamo quello che è successo su bitcoin perché dopo il dump di ieri siamo andati a rimbalzare e stiamo facendo una struttura fondamentalmente di ranging all'interno appunto di questa zona qua che va dai 55 circa ai 56 potrebbe andare a costruire una sorta di bottom per poi ripartire secondo me fa parte di un ranging molto più ampio che lo vediamo molto bene all'interno di questa zona qua quindi nulla di così allarmante un po' come ci siamo detti ieri sera quindi assolutamente la struttura non è invariata lo vedete nel long term non ci sono particolari situazioni appunto di da segnalare ok di movimenti di prezzo chissà che allarmanti si stiamo mantenendo circa ora sui 56 mila dollari nel momento in cui registro e quindi siamo comunque in una zona di comfort abbastanza in questo momento quindi non vedo particolari inversioni quello che però dobbiamo notare a parte la total market cap che dopo questo drop è andata a recuperare i 2.32 trillion è il fatto che le alz non ne stanno poi soffrendo particolarmente perché il drop è stato altrettanto violento ma ha recuperato un po' più velocemente infatti nel momento in cui registro la total 2 registra un più 2 e 48 rispetto a una total market cap di un più 1 e 38 tutto ciò perché perché stiamo andando dopo questo recupero di di dominans che è andato a toccare la 200 periodi sapete che finché non vedo chiusure al di sopra della 200 periodi non ho intenzione appunto di invertire la mia esposizione in alz perché essa effettivamente non va a essere appunto non c'è un'inversione di tendenza infatti che è successo siamo andati a toccare la 200 e siamo tornati a correggere sulla parte bassa del grafico e a questo punto siamo andati addirittura a toccare una shadow a 44.31 ora nel momento in cui registro siamo circa a 45% di dominans e quindi stiamo mantenendo veramente basso questo valore valore che a questi livelli non si vedeva da veramente tantissimo tempo ok se guardiamo sul settimanale andiamo praticamente a vedere che tutto ciò è risulta addirittura proprio nell'aprile 2018 che è gli ultimi gli ultimi down di questo livello qui diciamo quelli un po' più recenti e questo è importante perché ci fa capire come il mercato in realtà sia bullish sia molto bull molto esteso e con un drop veramente molto aggressivo molto aggressivo che ricorda tanto questo qui nel 2017 per gli altri nomi ovvero esempio Ethereum vediamo che a parte il settimanale vediamo quello che è successo in realtà non è che andiamo a registrare particolari situazioni di inversione dopo il drop anche qui siamo andati a recuperare in maniera abbastanza veloci 4.000 dollari ora stiamo trovando supporto orario sulla 12 e la 26 che tra poco probabilmente andranno a ricrociare a rialzo e quindi sarà un ulteriore segnale bullish abbiamo avuto nomi che stanno perdendo un po' di più nomi che stanno perdendo un po' di meno in realtà quello che sta pompando tanto in questo momento ce ne siamo accorti sono proprio le shit coin ok come proprio shit ok quindi a parte Dodge che è andato a recuperare poi nella giornata odierna dovuta un po' al tweet di di Musk che è andato un po' a ridare indietro ora stiamo vedendo veramente tanto tanto fomo sui progettini il mio consiglio rimane sempre lo stesso ok quindi di porre particolare attenzione e quando ricordatevi i riflettori non sono puntati sui progetti ad alta capitalizzazione dovete cercare un po' secondo me di andare a vedere anche quei progetti ok ad alta capitalizzazione che vi interessano perché è lì il momento dove solitamente si va a delineare un'ottima buy area ok è ovvio che però il mercato continuerà a crescere se e solo se non avremo delle fuoriuscite di capitali sulla total market cap ok finché la total market cap rimane alta e continueremo a mettere su con questo indicatore allora sarà il nostro segnale che potremo continuare a crescere però dobbiamo stare attenti perché la total market cap fa presto anche ad avere delle correzioni e le medie mobili che vediamo molto bene la 12 come la stiamo mantenendo da veramente tantissimo tempo sul settimanale direi addirittura da aprile 2020 sulla total market cap vedete sul settimanale in realtà ci ha abituato a fare anche delle correzioni abbastanza violente lo vedete appunto nella settimana 12 19 aprile come abbiamo corretto forte poi abbiamo recuperato in maniera altrettanto aggressiva quindi nulla può escludere che anche la total market cap possa correggere ulteriormente e ritestare zona 2 trillions ok circa perché ovviamente questo indicatore andrà a crescere anche lui sulla base del grafico quindi attenzione perché ciò potrebbe voler dire e non andrebbe ad invalidare nulla a livello di grafico una correzione anche di circa il 13% che è fuori uscita di 327 mila miliardi quindi attenzione perché può essere può essere una situazione scusate 327 miliardi no mila miliardi è un po' troppo 327 miliardi e questo può essere un indicatore molto importante per farci capire che gli shake ci possono ancora essere non siamo ancora salvi ok quindi ricordatevi sempre zoom out per avere controllo della situazione non fate dipendere dal panico e soprattutto sappiate quello che state facendo quindi se trattate shitcoin sappiate quello che state facendo credo sia la scelta migliore ok anche perché altrimenti si rischia di andare incontro a dei rischi che poi non sono i rischi che possete prenderli perché non li tollerate la tolleranza al rischio è una cosa molto personale e quindi dipende da individuo a individuo per questo che non si possono dare consigli di investimento finanziario perché ognuno ha la sua tolleranza al rischio al suo grado di rischio e quindi il mio portafoglio potrebbe essere un portafoglio che a un'altra persona non va assolutamente bene ok questo è fondamentale da capire io ragazzi mi fermo perché non vado lunghissimo come sempre se questi contenuti vi piacciono vi sono utili vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace mi aiutate davvero tanto iscrivetevi al canale con il clic sulla campanellina e noi ci vediamo a scanso di ulteriori correzioni atomiche ci vediamo domani mattina col morning with crypto ragazzi intanto io vi auguro una buona serata ciao a tutti